Si svolgerà domenica a Vogogna e la vertical ha giunto alla terza edizione ed organizzato dall'Unione Sportiva Vogognese del presidente Adolfo Barone. La gara originariamente era prevista per domenica scorsa ma il maltempo ha reso pericoloso ed a rischio il sentiero per atleti ed addetti, non essendo accessibili da automezzi in caso di infortunio, così con grande responsabilità. Gli organizzatori dell'evento lo hanno rimandato a domenica unica data libera da impegni dell'Unione Sportiva Vogognese. Gli specialisti della corsa sul vertical tenteranno di battere i record che sono detenuti da Ivan Fantoli e da Sabina Ambrosetti. Il percorso è molto duro e tecnico, misura 2,8 metri con dislivello di millimetri interamente all'interno del parco Val Grande. La partenza a cronometro ogni 15 secondi verrà data alle 9 da Palazzo Pretorio al centro dello stupendo borgo medievale di Vogogna. Si percorreranno una scalinata ed una mulattiera in pietra che costeggiano le mura del castello Visconteo, oltrepassando poi la frazione di Genestredo. Qui si imboccherà un ripido sentiero nel bosco che passerà dagli alpeggi di Amsona e Pianoni in cui saranno presenti i due ristori. Gli ultimi 300 metri di dislivello, sempre più duri, porteranno all'arrivo dell'Alpe Sui a quota 1.250 metri. Al ristoro gli atleti potranno mirare un impagabile panorama che spazia dai laghi di Mergozzo, Maggiore e Varese, alla maestosa parete est del Monte Rosa. A questo punto non rimarrà per loro che scendere laddove si è saliti per le premazioni ed un pranzo in compagnia a base di polenta da gustarsi sotto il porticato dell'antico Palazzo Pretorio ed aperto a tutti. Gli organizzatori ovviamente confidano nel bel tempo. L'obiettivo è quello di raggiungere la cifra di 100 iscritti. L'intero ricavato verrà utilizzato per finanziare l'attività della pallavolo giovanile e anche a fini benefici.